Conosci l'assessore dell'ambiente? Sì, la dottoressa Di Clon. Ha degli altri consigli da dare? Certo, d'estate magari passare qualche volta in più, dare a chi gestisce la pulizia di passare più volte. Soprattutto c'è un problema, i cani. Quindi la pulizia, sì, degli angoli, dei lampioni. Ho visto una volta fare delle pulizie col sapone, ma è sporadica, deve essere fatta più spesso. Conoscete il nome dell'assessore dell'ambiente del comune di Termoli? Guarda, l'ho sentito, però non mi ricordo. Filomena Florio. Abbiamo sentito qualcosa, però di vista non l'abbiamo mai vista. Michela, conosci il nome dell'assessore dell'ambiente del comune di Termoli? No, sinceramente no, ma anche per il semplice fatto che se avesse fatto del bene o qualcosa di corretto, magari se ne sarebbe parlato. Invece visto che a quanto pare non si sta fai niente, sta solo a scaldare la serie, non l'ho mai sentita. O perlomeno se l'hanno nominata in mezzo a tanti improvvi, sicuramente ho perso il nome. Grazie.